ben tornati al mio canale sono walking dread allora facciamo fear continuiamo fear dal punto dove avevo lasciato single player load game quello delle 6 1 26 perché dopo sono troppo avanti e ho fatto la registrazione in in quattro terzi quindi ho dovuto fare un macello quindi ricomincio da questa sì praticamente abbiamo visto che abbiamo abbiamo visto ho visto io che ciccio il famoso ciccio bastardo è fuggito sull'ascensore sono salito da queste parti quindi x o possiamo anche stare in piedi e neanche scendiamo non si aziona nulla abbiamo ecco un'altra volta ciccio bastardo si è una famosa e questa l'abbiamo fatta fuori intanto x niente qui ci vuole la mano fatata per fare andare l'ascensore allora qui nulla nulla di che nulla di che è proprio nulla di che è proprio nulla di che è qui ho niente ok c le serve check point questo non si aziona niente qua cosa abbiamo qualcosa questo non si aziona oh un medikit almeno quello subito vediamo le bombe non me le fa prendere perché evidentemente ho fatto il pieno perfetto oh mamma Dovrebbero bastare Sì, sono bastate, che culo Entriamo qua per non avere il medikit, ci serve il medikit E va bene, andiamo un pochetto avanti, vediamo un po' dove arriviamo ragazzi Allora, X Che facciamo al giro l'arco, ma alla fine ci porta comunque sia sempre da queste parti Oddio E così la mettiamo Non sono bastati Oh, che cazzo però Finito Via questa Il ciccio bastardo Sì, vabbè, ma come è fatto a prendermi, cazzo Beh, il medikit lo prendiamo intanto Facciamo una piccola ricarica Il fatto è che lì è un macello Un macello per poter passare Undici colpi Basteranno Guarda, guarda il ciccio bastardo Guardate il ciccio bastardo che faccia Guardatelo Guarda, guarda il ciccio bastardo Guarda, guarda il ciccio bastardo Guarda, 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 guarda non so se bastano questi colpi maledetta torretta ho finito anche le bombe bene eh ho finito tutto ho finito cazzo eh nessuno mi ridà le armi nessuno mi ridà le mie armi ah ecco c'è un condotto proprio bisogna sfruttarlo se ci fosse qualcosa di buono beh sì ho accesso qualcosa forse per non fare scattare queste maledette torrette spero ops ciccio bassardo lì non ci passa il ciccio il ciccio come farà mai beh va bene è andato ciccio c'è che point ragazzi c'è che point ma per fortuna message qua scendiamo vediamo qua qua ci alziamo ci abbassiamo è questione di secondi minuti se riesco ad andare qui è fatto facciamo ricaricare un attimo il rallentamento del tempo perché qui è vitale ok ci siamo quasi le bene bene ci mettiamo qua va pare non ci abbia visto ma attendiamo che si ricarichi un'altra volta la barra del slow motion come si suole dire che poi da qua la potrei anche beccare però ho solo ho solo tre colpi quindi forse faccio in tempo in tempo ad andare di là forse oh oh eh volevi eh volevi oh ma come ho fatto a prendere me la mia direzione è quella quindi bando le ciance io vado lì non me ne frega niente e il gioco è fatto bene eh 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 troppo tardi mi spiace metti kitty mio ciao ciao x qualcosa è scattato non so cosa ho fatto un verso strano uuuuuh ha fatto saliamo save checkpoint quello che gli raccontiamo ma per fortuna è di là non ce l'ho fatta è naturale è naturale viene avanti cretino ha anche è naturale si è naturale si è naturale che Cazzo C'ho 15 colpi speriamo. Tanto vogliamo salvare Mi servono quei colpi Ma dove ti sei nascosto? Li bastardo Cazzo 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 Incredibile ce l'ho fatta ragazzi Questo me lo dai a me? Questo è mio Vorrei salvare Subgame Yes Ok E questo l'abbiamo mezzo fatto Medicate mio Ok Riflessi aumentati Quattro Cazzo Cazzo Capo Ok Cazzo Cazzo Ok Cazzo Oh cazzo E va bene Qua 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 Fatto? Tutto qui? Bene No di quello non me ne faccio nulla Ok Allora qui in giro ci dovrebbe essere La famosa arma bazooka Se non sbaglio No E' questa che non è ricaricata però Molto male E i proiettili di quella dove li trovo? Forse qui dentro Vediamo un po' se ci sono Non mi pare Non mi pare Non mi pare di averli ricevuti Oh si si Li ho ricevuti Li ho ricevuti E qua cosa abbiamo? Medikit Le E anche i medic kit Ce l'abbiamo Come una bella R Così ci ricarica l'arma Queste sono nostre Probabilmente da qua Scaturirà Scaturirà Il mostro Il monster E c'è anche questa Una bella arma Il penetrator Il penetrator Va bene Noi sa che facciamo azionare Questa Aspetta un po' Ce ne ho nove Dovrebbero bastare Ma voilà Si è quasi ridotto all'osso Sei muerto Hai visto che sei muerto Bene bene ragazzi La termino qui Se vi è piaciuto questo video Lasciate un like Un commento E ci vediamo Nel prossimo episodio Di Fear Bye bye Da Walking Dead